Benvenuti all'hotel Le Soleil, l'hotel più figo della Madonna, e seguitemi per questo viaggio. In questo sistema di immobili, mobili, ritrovano spazio 850.000 camere, 640.000 milioni di bagni, 547 euro. È qui a Jesolo che troviamo questo posto di merda! Siamo qui in Messile Verde, di questi prati in fiore, per ammirare l'immenso quantitativo di terrazze mobili di questo complesso alberghiero. 148.000 milioni di panchine, 860.000 km di ringhieri, trasporto climatizzato, 40.000.000 milioni di nere! E notate la vostra estate a Jesolo all'hotel Le Soleil? Sì, fatelo! Dai! Altyazı M.K. Altyazı M.K. No